Benvenuti a tutti, oggi facciamo una degustazione di uno Shiraz del 2015 Kevin Arnold della cantina Waterford Estate. È uno Shiraz d'autore caratteristico delle terre di Stellenbosch in Sudafrica e si presenta pieno, ricco, elegante, con un finale lungo e persistente ed espressioni di cioccolato. Per quanto riguarda la scheda tecnica, è presente un 92% Shiraz e 8% Mouverde. La località del vigneto è appunto nel Western Cape, in Sudafrica, nella regione di Stellenbosch ed è stato invecchiato 20 mesi in vecchie botti di rovore francese da 225 litri o da 500 litri. L'analisi del vino presenta il 14% di alcol, i tannini 5,2 g su litro e un pH di 3,66. La bottiglia si presenta da 0,75 litri e col tappo in sughero. Kevin Arnold è un marchio monomarca, è stato rilasciato per la prima volta nel 99 e ogni annata è dedicata a uno dei figli della famiglia Ord o Arnold. Questa annata prende il nome dalla figlia più giovane della famiglia Ord, che è Catherine Leite, appunto il nome del vino. In questa annata l'inverno è stato corto con un aumento precoce della temperatura, quindi la stagione di maturazione e di crescita dell'uva è rimasta calda e secca e la data di vendemmia è stata portata leggermente in avanti. Le condizioni atmosferiche durante la maturazione dell'uva sono state piuttosto fresche e ciò ha conferito al vino degli aromi e dei sapori ricchi di espressioni. La finestra di tempo ideale per degustare al meglio questo vino oscilla tra il 2019 e il 2024. Passiamo adesso alla degustazione del vino. Allora, per quanto riguarda la vista, il colore è un bel rosso ciliegie intenso. All'olfatto ci sono aromi soffici di fiori rossi con sfumature di spezie, ci sono notte di affumicature di cuoio e sentori anche di liquirizia. Passiamo al gusto. Al palato si presenta morbido con notte boscose di frutta scura, amarena, prugne e notte sapide di caffè. La naturale acidità che presenta questo vino e i tannini morbidi e velutati sono caratteristiche classiche di uno Shiraz proveniente da questa regione di Stellenbosch. Il corpo in generale si presenta morbido, pieno asciutto, il finale persistente con espressioni di cioccolato amaro. L'abbinamento ideale per bere e degustare al meglio questo vino è con carni rosse magre, ad esempio selvaggina come cervo, prosciutto crudo e tartufo. La temperatura di degustazione è consigliabile tra i 16 e i 18 gradi. È consigliabile anche decantare almeno un'ora prima in anticipo. Speriamo che questa degustazione con Traveling the Wine vi sia piaciuta. Seguiteci sul nostro blog, mettete mi piace e commentate. Ciao a tutti!